Salve ragazzi, oggi volevo parlare con voi di due articoli che mi sono capitati sotto mano mentre scorrevo le notizie di giornata. Uno dei due mi ha fatto veramente incazzare ed è il seguente che andiamo subito a leggere. Eccola qua, Kate Winslet, mi pento di aver lavorato con Woody Allen e Roman Polanski. Nel corso di un'intervista con Vanity Fair, Kate Winslet ha messo in discussione le sue passate collaborazioni con Woody Allen e Roman Polanski. E Twinslet ha rilasciato una nuova intervista a Vanity Fair in cui ha messo in discussione le sue passate collaborazioni con i predatori sessuali Woody Allen e Roman Polanski. È tipo, che cazzo sto facendo? Lavorando con Woody Allen e Roman Polanski? Ha detto, è incredibile per me ora come quegli uomini fossero ottenuti in così alta considerazione, così ampiamente nell'industria cinematografica e per tutto il tempo che lo sono stati. È fottutamente vergognoso. Partiamo da qui. Sicuramente il fatto che determinati personaggi, cito su tutti Harvey Weinstein, che è stato tenuto grande considerazione dagli studios, da tutti i lavoratori di quel settore, anche protetto, sicuramente, è stato ed è tuttora un problema. Bene, anche perché se queste voci, se queste reali colpe vengono nascoste, vengono sopite, chiaramente si finisce con dare, a parte soldi, lavorando per loro, ma anche credibilità a personaggi terribili. Quindi, quando è uscito fuori il discorso del Me Too, io sono stato contento, perché molte donne si sono fatte ovviamente coraggio ed hanno denunciato questo porco che abusava del suo potere. Non tenendo in considerazione il fatto che comunque il Me Too ha preso anche delle derive problematiche, anche qui in Italia abbiamo avuto il caso di Fausto Brizzi, che è finito in nulla di fatto, se non per la sua distruzione lavorativa. Non è stato giudicato colpevole, però è essenzialmente un uomo distrutto, gli è stato tolto anche il nome dall'ultimo film che aveva diretto. Poi, che lui sia colpevole o meno di determinate cose, non lo sappiamo. Tra l'altro inchiesta tirata fuori dalle iene, se non era una sorta di replica del discorso Me Too. senza considerare il fatto che all'interno del Me Too molte persone abbiano anche millantato probabilmente abusi o comunque robe del genere per cavalcare il trend e finire non solo nella spotlight, nella luce della ribalta dei riflettori, ma anche per avere una considerazione maggiore. Ricordo anche Amber Heard, che era addirittura all'interno di un comitato di protezione per la violenza femminile, eccetera, quando poi, insomma, lei è stata la prima a fare della violenza fisica al suo ex compagno Johnny Depp. Quindi, il Me Too è stato sicuramente importante, nonostante alcune zone d'ombra che spesso sono anche inevitabili, come tutte le guerre. C'è da dire però che Kate Winslet fa riferimento ai suoi due lavori con Polanski e Allen, ovvero Carnage con Polanski, tra l'altro film meraviglioso, una delle più belle interpretazioni di Kate Winslet, e La Ruota delle Meraviglie. Adesso, io non mi ricordo precisamente, quindi andiamo subito a controllare, vediamo. Allora, Carnage è del 2011, o Carnage in realtà, poi non so. Chi c'è? La Ruota, la viglia, è più recente, è del, se non sbaglio, 2017. Ecco, le vicende di Woody Allen, Polanski lo teniamo un attimo da parte, le vicende di Allen risalgono agli anni 90. Ci fu tutto il casino, con Farrow, eccetera. Quindi, la cara Winslet vuole farci credere che dagli anni 90 fino al 2017 non ha saputo nulla riguardo Woody Allen. Se ne discute da anni, da decenni, su tutti i giornali, i casini, gli hanno bloccato dei film, anche l'ultima biografia è stata bloccata qui in Italia. E lei vuole farci credere che non sapeva nulla. Tra l'altro, Woody Allen è stato prosciolto da ogni accusa, accuse di presunto abuso nei confronti della figlia adottiva. È stato prosciolto. Ma andiamo avanti. Sul caso Polanski, va bene, lì io ho fatto anche un video, se volete guardarlo, riguardo la polemica dei Cesar, che tornerà anche nel secondo articolo di oggi, ovvero sull'inclusione del suo film, l'ufficiale della spia, all'interno di quella competizione, insomma, dei Cesar. E in quel video ho detto, beh, Polanski è un caso diverso da quello di Allen. Effettivamente lui non ha mai pagato il suo conto con la giustizia, nonostante bisognerebbe informarsi anche lì, perché è un caso abbastanza complesso. Quindi posso capire alcune proteste per quanto riguarda la partecipazione, cioè quel film è stato candidato ai Cesar. Però nel momento in cui tu candidi quel film, l'ufficiale della spia, e quel film vince, tu non puoi rompere i coglioni, o meglio, lo puoi fare, per carità, capisco anche la donna che ha subito, la ragazza, insomma, l'attrice che è uscita dai Cesar, protestando, lo posso capire, ha avuto anche un passato di un certo tipo riguardo alle violenze, capisco tutto. Però nel momento in cui tu candidi il suo film, ho fatto anche un discorso sul distacco tra opera e autore, non ti puoi lamentare se è il miglior film che vince. Questo era il discorso riguardo Polanski. Però, per quanto riguarda Kate Winslet, posso ancora capire il volersi di staccare oggi, va bene, da Roman Polanski. Anche lì, parliamo di vicende successe anni e anni fa, però va bene. E adesso arriverò al punto, cioè perché Kate Winslet se ne sta uscendo proprio oggi, con queste dichiarazioni. È sempre brutto fare processi alle intenzioni, però ogni tanto qualche dubbio. Ok, viene fuori. Qualcuno diceva a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Ok, va bene. Nel 2018 ha all'uso ai rimpianti di aver lavorato con persone che non ha voluto nominare in quel momento. I suoi nuovi commenti sono arrivati come parte di una conversazione sul suo ruolo nel movimento Me Too. Woody Allen, la gente non importa se sei nocente o no, il tuo nome ormai è macchiato. E questo è anche il discorso che facevo su Brizzi, ripeto, però io non so se Brizzi abbia fatto o meno determinate cose. Però in Italia, come in altre parti del mondo, esiste la presunzione di innocenza. Quindi finché un tribunale non stabilisce che tu sei colpevole, non dovresti subire determinate problematiche. Poi si possono fare tutti i giudizi del caso. E infatti qui anche Allen torna a parlare delle accuse di molestie, che lo hanno visto protagonista nel corso degli ultimi anni. E che secondo lui sono diventate per lo più una moda. In un'intervista rilasciata del Paris, il regista di Ioenni ha spiegato il Paese come una volta che il tuo nome viene macchiato da determinate accuse, in questo caso molestie e pedofilia, non ti rimane neanche la possibilità di dichiararti innocente, perché ormai la gente si è già schierata. E questo è un tema ricorrente. Quanto è potente l'accusa mediatica e quanto è debole l'ha smentita. No? L'abbiamo parlato spesso anche al Cerbero. La gente non guarda se hai torto ragione. Ok. Nella sua autobiografia di recente uscita, a proposito di niente, tra l'altro bloccata in America, se non erro, è arrivata in Italia grazie alla casa editrice di Sgarbi, della sorella di Sgarbi. Io purtroppo ancora non l'ho letta, ma devo assolutamente recuperarla. Anzi, dopo me la compro, già che ci sono. Woody Allen ha raccontato la sua versione dei fatti, dopo anni di silenzio. Vado a zoomare però perché nemmeno Legolas. Ho raccontato la mia storia in maniera obiettiva, non per difendermi perché non sento di aver bisogno di una difesa. Ho riportato ciò che hanno detto i medici, testimoni, giudici e investigatori, senza includere me stesso. In questo modo chi legge può arrivare alla sua conclusione. Il mio silenzio può aver portato le persone a credermi colpevole, ma essendo innocente non sentivo il bisogno di spiegare niente a nessuno. Woody Allen ha poi parlato di ciò che è successo nel corso del tempo, fino allo scoppio del movimento Me Too, e quindi le nuove accuse della figlia Dylan Farrow. Quando è successo tutto quanto io ho continuato a lavorare. Mi sembrava assurdo che qualcuno potesse davvero credere che io abbia fatto una cosa del genere a mia figlia di soli sette anni, che io possa aver abusato di lei. La consideravo una questione a cui davano importanza solo i tabloidi, perché vivono di questo. Poi ognuno può pensare quello che vuole sul discorso della figlia adottiva, uno può pensare che schifo, un uomo orribile, però non è un reato, non è il sangue del suo sangue, se non l'ha toccata fino all'età del consenso, non è un reato. Nel corso del tempo sono poi sorte delle vere problematiche a livello professionale, come la scelta di Amazon di interrompere qualsiasi rapporto di produzione e distribuzione con il regista, non facendo quindi uscire il film Un giorno di pioggia a New York, infatti era stato ritardato questo film, anche perché c'erano, se non sbaglio, nella prima scrittura, nella prima stesura delle componenti particolari, ovvero c'era una storia tra una persona molto anziana ed una ragazza molto giovane, non vorrei dire cazzate ma avevo letto ciò, e le accuse arrivate da parte di attori come Timothee Chalamet e Elle Fanning, che si sono detti pentiti di aver lavorato con Woody Allen, hanno devoluto in beneficenza tutti i soldi ottenuti dalla collaborazione con lui, tra l'altro film meraviglioso che ho anche recensito. I danni professionali ci sono stati soprattutto nella teoria, nella pratica invece, se la pubblicazione del libro è stata rifiutata da un editore, un quarto d'ora dopo era stata accettata da un altro, ciò che ha fatto Amazon non mi ha impedito di lavorare, non ha impedito alle persone di continuare a guardare i miei film. Alcuni attori sono rifiutati di lavorare nel mio prossimo film, Weekend's Festival, ma non fa niente, non ho trovati altri disposti a farlo. Quindi, il discorso Allen è questo, ci sono accuse che a livello penale sono nulla di fatto, lui è stato prosciolto da ogni accusa. Dal punto di vista morale ognuno può fare le proprie considerazioni, tu da attore puoi anche dire no, io non voglio lavorare per uno come te, che mi fa schifo quello che hai fatto. Legittimo. Però, finché non fai un qualcosa di penalmente perseguibile, sei comunque un grande regista e dovresti essere valutato in quanto tale. Era il discorso che facevo anche con Polanski, nel senso, è uscita stopera l'ufficiale della spia. Vediamo se è bello o brutto sto film, lo premiamo o meno. Poi qualcuno mi ha detto, come anche la cara Barbie Xanax, parlando con lei, beh però il fatto che comunque l'abbiano premiato non è bello perché non ha mai saldato i suoi conti con la giustizia. Posso capire, posso capire, però a quel punto, dico io, non lo candidi neanche, cioè non lo porti ai Cesar, no? Siamo d'accordo. Nel momento in cui lo candidi, se quello è un film bellissimo, è il più bello in concorso, deve vincere, o sbaglio, se no non lo candidi proprio. Ci può stare come scelta dei Cesar, scelta politica, scelta morale, etica, quello che cazzo vuoi. Torniamo a Kate Winslet. Devo assumermi la responsabilità per il fatto che ho lavorato con entrambi. La responsabilità sta in cosa? Nel fare delle dichiarazioni, costume, dopo aver collezionato due prove incredibili, anche nella ruota delle meraviglie è stupenda, un ruolo teatrale meraviglioso, un monologo, mamma mia, veramente uno dei migliori della sua carriera, e la responsabilità è questa, cioè ottenere il consenso delle persone, il consenso mediatico delle persone. Questo è. E arriviamo qui alla mia lezione. Forse in chiave Oscar. E non è un caso che ultimamente gli Oscar siano andando verso una direzione ben precisa. Non è stupida la Winslet? Non posso tornare indietro nel tempo, sono le prese con quei rimpianti. Cosa abbiamo se non siamo in grado di essere solo fottutamente sinceri su tutto questo? La sincerità che avviene adesso. Ok. La Winslet ha anche discusso del suo ruolo in Ammonite, imminente storia d'amore con Cersei Ronan, che è il film in uscita. Sentite anche voi, puzza di Oscar? Ammonite mi ha reso davvero consapevole di essere ancora più impegnata a onorare ciò che le donne vogliono dire per se stesse nei film e come vogliono essere rappresentate, indipendentemente dall'orientamento sessuale. Sarà una storia, non so, lesbo, bisex, quello che cazzo vuoi. Benissimo, che bello. Ottimo. Però queste dichiarazioni, con questa prova, con questo film in arrivo, perché la vita è fottutamente breve e mi piacerebbe fare del mio meglio quando si tratta di dare un buon esempio alle donne più giovani. Vabbè. Stiamo offrendo loro un mondo piuttosto incasinato, quindi mi piacerebbe fare la mia parte nell'avere una certa integrità. parte del fatto che saresti un'attrice, quindi un'attrice professionista non è che deve scegliere, cioè può scegliere il cazzo di ruolo che vuole ovviamente, però non è che si interpreti un ruolo brutto, nel senso con un ruolo negativo che rappresenta magari una faccia negativa dell'essere umano, allora la tua immagine pubblica ne viene svilita. Questo attivismo interno al cinema, interno alla recitazione, a me non piace molto. Certo, dovessi io, Davide Marra, attore, cosa che non so, non sto facendo un'ipotesi, recitare un film, ad esempio, dove i neri siano rappresentati come in via col vento o in nascita di una nazione, o lo farei, chiaramente, però questa roba metacinematografica, all'interno del film faccio questo personaggio aperto, eccetera, quindi voglio dare un segnale anche all'esterno, va bene, ok, ottimo, ma il tuo ruolo all'interno di Carnage è meraviglioso, anche quello può essere un grande metro di paragone per le nuove attrici nascenti, cazzo, vedere una prova così forte, idem, quello nella ruota delle meraviglie, dal punto di vista artistico è molto più importante per le future attrici ricevere un lascito così potente dal punto di vista della performance, piuttosto che un'ipotetica, magari questo film sarà meraviglioso, un'ipotetica, fiacca, prova, o mediocre, piovra, mediocre, prova attoriale all'interno di un film, buono, in chiave Oscar, questo è tutto un'ipotesi ovviamente che io sto facendo, adesso veniamo al secondo articolo su Polanski, ritorno alla polemica, vabbè, comunque chiudo il discorso della Winslet dicendo che mi sembra un po' da paracula, dire, eh, devo adesso redimermi perché ho recitato diretta da questi due mostri, nel momento in cui Allen e Polanski avevano già quei problemi da tempo, tu lo sapevi benissimo, non ci prendiamo per il culo, dopo che comunque hai collezionato queste performance incredibili, sei stata diretta in quel modo, con quei personaggi così belli, dirlo adesso, soprattutto quando stai girando un film di questo tipo, a me, a me sembra una paraculata in chiave Oscar, poi magari sarò coglione io o malfidato. Roman Polanski entra nei Cesar, si riaccende la polemica, il regista è entrato d'ufficio tra i 182 membri della nuova Assemblea Generale, va bene, non leggo per pietà delle vostre orecchie, la Presidente Margaret Menegos è stata semplicemente applicata l'attuale statuto. Roman Polanski, che aveva rinunciato all'ultima cerimonia di Cesar sotto la pressione di proteste femministe, ho fatto il video, ve l'ho detto prima, seguite dalle nuove accuse di violenza testuale, è entrato d'ufficio tra i 182 membri della nuova Assemblea Generale, l'Accademia che dal 1976 assegna annualmente i premi Cesar ai migliori film e alle principali figure professionali del cinema francese. Il 29 settembre questa nuova Assemblea, i cui membri sono stati nominati lunedì sera, eleggerà per un mandato biennale rinnovabile una volta il nuovo consiglio direttivo dell'Associazione dei Cesar. Alla presidenza andrà un tandem composto da una donna e da un uomo. Feministe contro Polanski, le proteste addirittura con scontri di polizia. Ok. Greve. Ah, perché il suo film, l'Officiale della spia, è un originale, è Jacques Couss. Se non sbaglio. Negli ultimi mesi i premi Cesar sono stati travolti dalle polemiche. Versi i suoi membri e personalità del cinema, ne hanno criticato la gestione ritenuta opaca, autoreferenziale soprattutto all'insegna della mancanza di parità. Questa crisi ha raggiunto l'apice durante la cerimonia di consegna dei premi del 28 febbraio scorso, quando Adele Anael, attrice simbolo del Me Too francese, è uscita dalla sala per protesta contro la vittoria di Roman Polanski, come miglior regista per Jacques Couss. Pochi giorni prima della cerimonia, il consiglio d'amministrazione, preseduto dal 2003 dal produttore Alain Terzian, si era dimesso in blocco. Nell'ambito di una mediazione sotto l'egida del Centro Nazionale del Cinema, era stato nominato una presidente ad interim la produttrice Margaret Menegos, e un'assemblea generale straordinaria aveva avviato una riforma. Quindi anche qui pressioni dall'esterno, nominiamo una presidente femmina, perché altrimenti non siamo abbastanza inclusivi, poi magari sarà bravissima. È in questo contesto, in questo clima, che i nuovi rappresentanti dell'assemblea generale sono stati eletti lunedì dai 4.313 membri dell'Accademia César, attori, registri e produttori tecnici. In qualità di membri storici, Roman Polanski e il produttore Thomas Langman, condannato nel 2019 per molesti nei confronti della moglie, sono stati ammessi d'ufficio dopo aver avanzato la richiesta. Ok, quindi hanno fatto richiesta anche loro. Anche Alain Terzian, criticato per la passata gestione dell'Accademia dei César, fa parte della nuova assemblea generale in qualità di membro storico. È stato semplicemente applicato l'attuale statuto, ha detto Margaret Menegos, quindi questa che era stata, diciamo, nominata per quelle pressioni lì, non si è opposta a questa cosa e ha attuato le norme già in vigore. Commentando le polemiche subito ripartite. Il presidente, facente funzione del César, non ha voluto commentare il caso specifico di Polanski, ricordando semplicemente che a livello personale ha sempre separato il lavoro della persona. Brava! 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 Appena presa la notizia, infatti, l'attore Eric Mete... ma perché non so leggere le altre lingue al di fuori dell'italiano? Vabbè, devo fare un corso di inglese e di francese. Comunque, Eric, tra i nuovi rappresentanti eletti nell'assemblea generale, ha pubblicato su Twitter un videomessaggio di disapprovazione sulla designazione di alcuni membri, senza nominarli, e augurando che quelli che non hanno niente da fare lì vadano via. L'attore ha chiesto inoltre che d'ora in poi tutti i membri dell'Academy siano eletti. Va bene. Allora, qui la questione è leggermente diversa, nel senso, già riguardo il discorso Polanski. Qua c'è ancora il layout del Cerbero. Posso ancora capire le proteste riguardo l'altro accusato di molestie, accusato condannato, tra l'altro, non è anche letto bene. Posso capire, come dicevamo, Polanski non ha mai pagato i suoi conti con la giustizia, dare a lui comunque premi o posti o nomine all'interno di un premio importante, anche politico, come tutte quante le manifestazioni, può essere un segno negativo, no? Come dire beh, l'hai fatta franca, puoi continuare a fare il tuo lavoro senza problemi, anche se non hai pagato i conti con la giustizia. Quindi già queste proteste, mi auguro non siano state troppo violente, anche se hanno parlato di polizia. Vabbè, poi lì sarebbe da aprire un altro discorso. Le posso capire, ok? Posso capire Adele, la ragazza del movimento mito francese. Però, però, bello anche quello che ha detto la donna messa a capo di César. Bisogna separare l'artista, anzi l'arte, dall'uomo. E' sempre qui, appunto. Cioè, l'opera, Jacuzzi meritava il premio, gli diamo il premio. Adesso, da qui a nominarlo comunque, includerlo nella lista, per me si potrebbe applicare lo stesso discorso, però, da qui capisco di più le varie proteste. Questo è un pochino il sunto delle notizie che ho letto oggi. Un po' il mio commento, scrivetemi la vostra. Per quanto riguarda Allen, insomma, lui non ha nessun conto da pagare, è stato prosciolto, quindi viviamo in uno stato di diritto, e anche in America si basano su questo, non dovrebbe subire limitazioni similari, o proteste similari. Poi, vabbè, le proteste sono sempre legittime in realtà. Può anche protestare per un qualcosa che dal punto di vista penale non ha avuto effetto, ma dal punto di vista etico, morale, può risultare estremamente negativo. Io lo capisco. Il mio punto di vista è questo, l'espresso. Aspetto la vostra. Ciao!